amici di quarta parete buonasera come vedete sono in compagnia di claudio bocchaccini buonasera claudio che è autore interprete regista della foto del carabiniere questo spettacolo che sarà in scena tra circa un'oretta qui dall'arena del teatro marconi che rientra diciamo nella nel festival che terminerà domani sera 29 allora claudio la foto del carabiniere partiamo da un evento tragico fondamentalmente ecco poi un attimo così inquadrarlo e raccontarcelo sì dunque nel settembre 23 settembre del 1943 quindi dopo l'otto settembre chiaramente nei dintorni di roma esattamente a palidoro vicino torri in pietra insomma nella zona che che sta tra torri in pietra il mare di sull'aurelia sull'aurelia vabbè esplode una una cassa di munizioni muoiono due soldati tedeschi e questo viene considerato dai tedeschi che sono diventati nel frattempo truppe di occupazione nemiche dopo l'otto settembre viene considerato un attentato in realtà era un incidente lo sapevano tutti che era un incidente di abitanti è stato usato a pretesto per fare una rappresaglia e per prendere muoiono questi due tedeschi e prendono 22 uomini lì nella zona 11 per tedesco insomma 11 per tedesco la regola era 10 però loro così ne prendono due in più tra questi 22 c'è anche mio padre mio padre che vive lì perché è il figlio del fattore cioè la specie di direttore generale vivono nel castello va beh insomma viene rastrellato anche anche mio padre vengono portati davanti al mare il mare di palidoro gli viene fatta scavare la fossa ognuno si scava la propria fossa gli puntano puntano addosso ai 22 i fucili e arriva in all'ultimo momento inaspettatamente arriva questo giovane 23enne napoletano vice brigadiere dei carabinieri salvo d'acquisto che scoperta la cosa dice va bene allora vuol dire che che mi auto accuso e salvo 22 persone quindi lui si si costituisce per una cosa che non ha fatto ovviamente e si fa uccidere lì davanti al posto dei 22 per lo più amici suoi tra cui mio padre che era molto amico suo ecco questo è il plot questa è la storia e la domanda che ti faccio come mai tutto questo tempo per scrivere questa cosa questa è una bella domanda no no perché allora questa l'ha immaturata sì l'ho maturata molto dunque questa è una storia che appartiene alla mia vita profondamente perché mio padre legato a tuo padre a questo punto esatto e di conseguenza anche a me se mio padre fosse morto io non sarei nato quindi mi ha salvato la vita salvo da questo anche a me ci ho messo tanto tempo apparteneva alla mia storia alla mia vita proprio e ho sempre l'ho sempre raccontata così ma gli amici alle persone quando capitava l'occasione raccontavo raccontavo questa storia poi va bene mio padre è morto ormai 35 anni fa e poi è successo che nel 2013 quindi cinque anni fa c'era una serie di concomitanze io facevo 60 anni mio papà erano esattamente 30 anni che era venuto a mancare poi salvo d'acquisto erano 70 anni quindi c'era 30 60 ho pensato che fosse il tempo se per raccontarla mi ha scattato questa scattata mi sono messo lì e l'ho scritta veramente in poco tempo e ho scritto una storia in realtà che parte dal 1960 cioè la mia storia parte dal 1960 perché io nel 60 avevo sette anni e scopro che mio padre nella sua patente ha una foto di un giovane carabiniere eh in divisa e insomma io dico ma perché mio padre c'è questa penso che ci sia qualche mistero sotto così e fino a che un giorno mio padre mi racconta perché e quindi lo spettacolo nella prima parte ma a lungo racconta gli anni 60 l'anno dell'olimpiadi di roma quindi fa anche molto ridere insomma c'è una parte molto leggera una parte molto comica divertente è un'italia che non esiste più disincantata anche se quell'italia ingenua del 60 io era un ragazzino del boom economico eccetera in un quartiere popolare come torpignattara e quindi io racconto questa cosa e poi il racconto si trasferisce naturalmente a torre in pietra e al 43 al 23 settembre il 43 ecco quindi questa è la costruzione la genesi insomma ecco come coscienza collettiva la lezione di salvo d'acquisto cosa ci dovrebbe insegnare ma innanzitutto è gli eroi vengono considerati tali perché come dire artefici di un gesto impossibile da immaginare e anche da concepire per noi sono dei nomi su dei fogli di carta che sono i libri mi piaceva raccontare questa cosa per dare a questo nome una un'umanità perché dietro questi gesti ci sono delle persone persone qualunque che in una in una in un empito non so come definirlo di solidarietà estrema scelgono di dare la propria vita per gli altri è il massimo della solidarietà in questo momento in cui ci sono polemiche tra l'altro gli extracomunitari gli sbarchi eccetera beh forse a me piace molto raccontare la storia di un gesto estremo di solidarietà fatto da un ragazzino che aveva 23 anni e che non ha esitato a dare la sacrificare la propria vita la vita veramente un atto di grande esatto e quindi e quindi mi fa piacere mi commuove ogni volta è uno spettacolo che mi prende l'altro tra l'altro dicevamo anche prima dell'intervista che sono diversi anni che tu lo porti avanti sempre con grande successo quindi questo spettacolo piace va a toccare le coscienze delle persone e parlo anche dei ragazzi che forse sono quelli che dovrebbero essere più sensibili a questa tematica no sì tra l'altro lo spettacolo è stato fatto tante volte anche per gli studenti per le scuole sì sì abbiamo fatto tante repliche proprio dentro le scuole l'abbiamo fatto per i carabinieri ho fatto tanto per i carabinieri ovviamente e che sono naturalmente molto legati alla figura di salvato acquistano però poi a ognuno gli arriva qualche cosa e poi tengo ecco a precisare questa cosa sottolineato è uno spettacolo dedicato ai padri i vari più che ai padri ai padri chi ce l'ha che non ce l'ha più chi ha un bel rapporto chi ha un rapporto conflittuale che deve risolvere ognuno c'ha qualcosa col padre come se tu volessi dare una chiave di lettura tra cui di questo no guarda semplicemente dire i padri sono importanti sono importanti anche come lo è stato tuo padre come l'è stato mio padre anche quando sono magari assenti quando magari sono sono andati via quando uno non è riuscito a risolvere il problema che aveva oppure quando lo ama nella maggior parte dei casi profondamente quando è ancora in vita quando non c'è più ecco questa cosa di padre credo che sia una cosa per evitare i rimpianti per evitare i rimpianti quando non ci sono certo e quindi a me fa piacere parlare di mio padre è morto ormai 35 anni fa e ogni volta che faccio lo spettacolo lo vedo lo vedo lo vedo e questa è una cosa che mi commuove mi commuove sempre splendido senti allora tu sei regista e attore allora tu come regista sei molto rigoroso con te stesso si abbastanza diciamo che io in realtà sono regista attore era una vita che non recitavo 25 anni che non recitavo questa in realtà più che uno spettacolo è un teatro di narrazione ricorda un po paulini ascanio celestini quella roba lì e io 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 sono sì 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 sono un regista quando mi è capitato di mettermi di dirigermi sono stato molto molto rigoroso e ho provato un'infinità di giorni ho fatto 30 filate prima di andare in scena insomma ho chiesto a me stesso quello che mi piacerebbe facessero gli attori che non fanno per tanti motivi e che quindi e che quindi penso poi di aver lavorato bene ecco insomma di averlo fatto bene insomma e poi il successo dello spettacolo evidentemente è dovuto anche credo insomma la interpretazione che credo che sia sia buona obiettivamente senti gloria per concludere questa bella chiacchierata ad un giovane che volesse avvicinarsi al teatro tu cosa consiglieresti di non farlo naturalmente assolutamente io ho una scuola di teatro dalla fine degli anni 80 la io faccio di tutto perché loro ci ripensino in genere nelle scuole stanno leghe che cercano di prendere gli allievi io la cosa che gli dico gli dico una cosa che sicuramente il teatro aiuta a vivere meglio aiuta a vivere meglio perché è una passione perché è un insieme di cose perché è un modo di vedere la vita i sogni può essere una terapia beh sì lo è purché però non non ci si avvicini per risolvere dei problemi ecco no no uno deve deve essere tranquillo deve avere l'idea di giocare e di penetrare altre dimensioni nella vita che che sono altro per allargare serve allargare la vita il teatro ecco quello di così va bene se volete questo venite ma se pensate di farne magari il vostro lavoro la vostra fonte di guadagno io vi dico aprite una gelateria assolutamente quindi ascoltate il consiglio di claudio allora ultima ultimissima progetti spero che questo spettacolo lo porterei ancora avanti immagino si stavo dicendo prima che viene distribuito dallo stabile dell'aquila diretto da simone cristicchi e quindi andremo in giro per l'italia con questo ancora e poi ho una serie di spettacoli miei di regista che che ci saranno per la prossima stagione come al solito sapremo tutto si salumberto qui al marconi ghione insomma in vari teatri ma anche nel resto dell'italia allora ti vedremo a vedere con grande piacere claudio grazie della disponibilità io vi ringrazio devo ringraziare assolutamente rocchino giuglia perché senza di lei io qua non ci sarei proprio e nel risentirci la prossima volta auguro a teatro è giusto no teatro comunque per teatro fa bene esatto comunque grazie